Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del Burgio Show! Oggi abbiamo altre 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 categorie Preparatevi o popolo! Le categorie che vi farò vedere non sono semplici categorie Sono delle categorie con le C maiuscola Preparatevi Ora o mai più, qua vedrete questo video Scherzo potrebbe anche più La prima categoria L'esperto di computer Allora, praticamente ti spieghi Prendi la... Prendi la CPU, levi la disk Mettila a scadermi domanda Vedete se c'è il pixel shader Poi 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 monti lo schermo e se c'è la fenda Poi facendo il mouse Vai su i Explorer Fai Word Il Word, il Word, il Word Explorer Premi X2, 8 Premi X2, 8 Premi X, Premi Word, Premi X e butti nel cestino Premi X e baffanculo Bene Bene, adesso un'altra categoria Il secchione Allora, aspetta 100 con la radice di 127 Più 992 Per la radice di 8 Per... 628 Pronto No No, non posso trombare Con Bianchiletta e bella Devo giocare all'ultimo gioco per il computer E adesso L'ultima categoria Ah... Il Pornografico Pronto Che abbiamo l'anni Vediamo un po' più c'è Ciao il mio nome è Lucky Mi chiamo Lucky Shuro Shuro Perché quando lo esco ce lo dura Ah 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 Ho detto un indizio 70, ma 70 non me l'ha detto 70 è la A me piace La patata Ti piace la patata Io amo la patata Ragazzi mi raccomando Sto vediamo quando fare la patata Lasciamo la patata Ragazzi, oggi mi sento tutto vetturato Che farmo dudette da esplicare Dudette 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 Signore e signori Il Burgos Show è finito E mi ricordo Qui al Burgos Show Tutto può succedere Questa è quella Questa è la prima Questa è la prima Questa è la prima La prima